Ciao a tutti e buon anno. Benvenuti a questa prima puntata di Breaking News del 2021. Questa sera l'argomento principale riguarda i festeggiamenti del Capodanno appena trascorso, un Capodanno diverso ed insolito per tutti noi, un Capodanno che non ci ha portato quest'anno nei locali e nelle piazze, un Capodanno dunque diverso. Però ci sono state alcune dirette streaming tra tutte quella di Ferrara con lo spettacolo pirotecnico al castello, come vediamo dalle immagini. Uno spettacolo che l'anno scorso è stato ovviamente eseguito in presenza delle persone che avevano di fatto circondato il castello per aspettare la mezzanotte. Quest'anno c'è stata solo la diretta streaming, però tutte le persone erano collegate proprio in streaming per vedere questo spettacolo pirotecnico proprio allo scoccare di fatto della mezzanotte. Queste immagini ci sono state anche in altre piazze d'Italia, ovviamente immagini sempre in streaming e piazze completamente deserte. Ricordiamo che di fatto anche tutti i locali erano chiusi nella nottata appena trascorsa e le piazze praticamente tutte vuote. Stesso discorso nelle piazze di tutto il mondo con le dirette streaming da Sydney a Dubai fino anche a Parigi dove David Guetta, il DJ, ha suonato all'interno del Louvre. Praticamente David Guetta da solo ha cantato e suonato la musica proprio all'interno del Louvre e c'è stata appunto la diretta in streaming. Così come Giotto Vannelli, lo storico DJ House che ha suonato con il Duomo alle spalle sempre ovviamente e naturalmente in diretta streaming. E poi abbiamo il discorso dei botti di Capodanno che in molti luoghi erano stati vietati, un divieto che non è stato rispettato praticamente quasi da nessuno, addirittura in certe città i botti sono raddoppiati rispetto allo scorso anno, però c'è stato un leggero miglioramento a livello di feriti e di morti. C'è purtroppo da registrare un morto di soli 13 anni in Piemonte, un giovanissimo, e ci sono comunque stati 79 feriti, dei quali 23 ricoverati. Un dato comunque migliore rispetto a quello dello scorso anno che registrava anche lo scorso anno un solo morto, però 204 feriti, dei quali 38 ricoverati. Quest'anno un po' meglio, probabilmente anche a causa delle restrizioni appunto che ci sono state un po' in tutta Italia. Però insomma il numero dei feriti è ancora abbastanza alto, c'è stato tra l'altro appunto questo morto di soli 13 anni in Piemonte. Insomma anche se in modo un po' insolito abbiamo salutato questo 2020, siamo riusciti finalmente a mettere da parte questo anno orrendo per tutti noi e adesso ci auguriamo davvero che questo 2021 sia migliore dell'anno appena trascorso. Probabilmente bisognerà ancora resistere qualche mese sperando davvero che il vaccino per il Covid-19 faccia il suo effetto e che si possa tornare a vivere come eravamo abituati prima di questo 2020 davvero disastroso per tutti noi. Intatto nuovamente buon anno, benvenuti dunque in questo 2021 e incrociamo le dita che sia un anno davvero di rinascita per tutto il nostro paese ma anche per tutto il mondo. Con Breaking News ritorniamo domani.